...dei primi tempi via Torino. Torino 0, Cesena 0, a voi Perugia. Identica la situazione, a Perugia 0-0 tra Perugia e Juventus. Perugia è passato in passaggio, rete di Curi su grosse da destra di Novellino, niente da fare per l'occhio. Attenzione, qui è il comunale di Torino fuori di testa, su grossi graziani a sinistra, a mezzo in rete. Il pallone che può far iniziare veramente appunto la rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta della conquista del prosentico scudetto. Trappi in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'inconscio. Torino campione d'Italia, grande sogno filialista, una grande impresa, è stata portata a Perugia Termine. Sì, io sono contento, ma sì, siete campione d'Italia, io ho perso. Siete campione d'Italia, sì. Ma no, mi piace così per questa partita perché veramente ormai era sblocato e ci siamo trovati così. Va bene, ma adesso è meglio, questo è solo il bisogno. Però in genere, beh, io devo dire che è una cosa meravigliosa, insomma. Questo pubblico veramente si merita. Che ha aspettato il contesto. Si merita veramente questo. Grazie. Grazie.